Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare un bilancio delle italiane dopo la prima giornata di Champions League. Allora, una prima giornata che è un po' in chiaroscuro, una giornata con alti e bassi perché la Juve e l'Inter hanno vinto, il Napoli ha pareggiato un pareggio che sa più di sconfitta che di vittoria, mentre la Roma ha perso. Detto questo, iniziamo un po' a vedere come sono andate le cose partita dopo partita. Iniziamo dall'Inter, Inter che ha vinto 2-1 contro il Tottenham, una bella partita a me piaciuta, una gara intensa, combattuta, piena di contrasti e con un finale al Cardiopalma. Un Inter che nel primo tempo ci ha messo in intensità, il Tottenham invece faceva vedere una buona manovra col pallone, Spurs superiori a centrocampo che nel secondo tempo sono passati quasi subito in vantaggio con Eriksen. Dopo il gol il Tottenham continua a rimanere padrone del campo ma ha la grandissima colpa di non chiudere la partita e infatti l'Inter alla prima vera occasione trova il gol del pareggio. Un gol bellissimo siglato da Icardi, veramente una opera d'arte. Cross dalla sinistra di Asamoah, Icardi stoppa la palla di petto e dopo fa partire un diagonale potentissimo e precisissimo che si infila all'angolino. Dopo aver segnato il 2-1 l'Inter prende entusiasmo, ci crede, si spinge in avanti e al 91esimo trova il gol del 2-1 con il solito Vessino. Vessino che in queste partite praticamente segna sempre, è l'uomo che nelle gare di Champions la butta sempre dentro. E' l'Inter che ottiene questa vittoria, una vittoria nata dall'entusiasmo sorto dopo il gol del pareggio mentre il Tottenham dopo aver subito l'1-1 è proprio andato in letargo. Insomma il gol di Icardi è stato uno spartiacque per entrambe le squadre. Una svolta in positivo per l'Inter, in negativo invece per il Tottenham. Poi una vittoria comunque importante per l'Inter perché nella prossima andrà a giocare contro quella che sulla carta è la più debole del gruppo il PSV in Doven e anche quella sarà una partita da vincere. E' un'occasione grandissima perché nella prossima gara si affronteranno Tottenham e Barcellona quindi una delle due perderà punti sicuro e se tu batti il PSV in Doven sei già a buon punto. Barcellona che nell'altra partita invece ha vinto come da pronostico 4-0 con il PSV in Doven. Detto dell'Inter poi passiamo al Napoli. Napoli che ottiene solamente 1-0-0 in casa contro la Stella Rossa è un risultato deludente doveva fare qualcosina di più perché ok è vero Napoli ha fatto la partita, ha tenuto sempre in mano il pallino del gioco ha fatto molto possesso palla però soprattutto nel primo tempo ho visto parecchia imprecisione nell'ultimo passaggio. Nel secondo tempo invece quando il Napoli attaccava soprattutto in un primo tempo appena era entrato Mertens ho visto più fluidità nella manovra d'attacco ma neanche qui il gol è arrivato. Ciò non toglie che questo sia un passo falso perché il Napoli doveva assolutamente vincere questa partita perché giocava contro la squadra più debole della Girone e doveva fare 6 punti su 6 contro la Stella Rossa se voleva sperare di passare il turno così non sarà e quindi le difficoltà aumentano. è una stella rossa che si è vista una squadra assolutamente mediocre che ha fatto una partita di contenimento come era normale che fosse ha cercato solamente di mettere un po' il naso fuori negli ultimi minuti. Napoli che nella prossima partita giocherà in casa contro Liverpool, Liverpool che ha vinto 3-2 contro il Paris Saint Germain è una partita che è stata davvero bellissima, la partita più bella di questa prima giornata di Champions League. Passiamo poi alla Roma, Roma che ha perso 3-0 contro il Real Madrid. Qua non c'è stata storia, un Real Madrid troppo superiore alla Roma in tutto e per tutto. Olsen specie nel primo tempo ha fatto quello che poteva salvando i giallorossi ma poi si è dovuto arrendere prima alla punizione di Isco nel primo tempo e dopo nel secondo tempo il Real ne ha siglati altri due, due gol molto belli. Prima un diagonale di Bale su un bellissimo assist di Modric e poi nel recupero un altro gol stupendo di Mariano Diaz del sostituto di CR7 che ha ricevuto palla da Marsello, è entrato su Manolas e dopo ha fatto partire un tiro a giro all'incrocio dei pali. Comunque sì, ho visto una Roma in difficoltà in tutti i reparti, in difesa, faceva acqua ovunque. Centrocampo l'unico che un po' reggeva è stato De Rossi in attacco, praticamente nulla, remissiva. Ha fatto qualche ripartenza quando doveva recuperare la partita, solo che sempre troppa lentezza e imprecisione negli ultimi metri. Con questa sconfitta però comunque la Roma può ancora passare il turno perché è la seconda più forte del girone, solo che ti devi dare una svegliata perché se continui con questo atteggiamento pauroso, ragazzi, non è che... Veniamo poi alla Juve. Juve che ha vinto 2-0 sul campo del Valencia. Una Juve che ha dimostrato di essere una grande squadra, di essere una squadra con un grande carattere perché vincere 2-0 sul campo del Valencia in 10 per un'ora non è una cosa assolutamente facile. Juve che è rimasto in 10 dopo mezz'ora per una dubbia espulsione di Cristiano Ronaldo ma è riuscita a vincere la partita dimostrando veramente un carattere e una tenacia fuori dal comune. Chi si attacca ai rigori a me personalmente fa ridere perché se ci sono i rigori questi vanno dati, sempre. Quindi evitiamo di fare i provincialotti. Juve che vince 2-0 dimostrandosi una squadra veramente molto tenace e compatta che dopo aver segnato il gol del 2-0 si è difesa in modo molto solido e coeso, ha stretto i denti e ha resistito da grande squadra che qual è. Juve che con questa vittoria fa vedere di essere una squadra veramente matura. Complimenti a loro. Juve che poi con questa vittoria si porta in vetta al girone assieme all'altra favorita per il passaggio del turno, il Manchester United che ha vinto 3-0 in Svizzera. Detto dell'italiane vediamo un po' rapidamente come sono andate le cose negli altri gironi. Partiamo dal girone A dove ci sono state due vittorie di misura e intrasperta da parte dell'Atletico Madrid e del Borussia Dortmund. Nel girone D troviamo in vetta il Galatasaray che ha vinto 3-0 contro il Lokomotiv Mosca mentre nell'altra partita pareggio 1-1 tra Porto e Schalke 0-4. Parte bene il Bayern Monaco che vince 2-0 sul campo del Benfica mentre nel girone F c'è stata una delle sorprese di questa prima giornata, probabilmente la più grande, la sconfitta del Manchester City in casa contro Lione per 2-1. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il bilancio della prima giornata di Champions League fatemi sapere come la pensate, come al solito vi invito a iscrivervi al canale di Youtube e iscrivervi alla pagina Facebook, lasciate un commento, lasciate un mi piace, passate per i vari canali di Youtube Football Project trovati tutti in descrizione. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao! Grazie a tutti.